Da un lato l'iter tecnico, dall'altro la politica, in mezzo il ricorso al tarre dell'asile. Sono le tre facce, l'una concatenata all'altra, della vicenda Megalo II di Chietiscalo. Il sì alla ripartenza dei lavori da parte del genio civile, dopo le opere realizzate sull'argine del fiume Pescara dalla ditta che propone la costruzione del nuovo centro commerciale Mirò, ha riaperto la polemica quando ormai sembrava il Megalo II una partita chiusa con poche chance di essere giocata. Invece, nonostante resti al momento il parere negativo del Comitato Via Regionale, proprio il ricorso al tarre che verrà discusso a fine marzo potrebbe consentire la ripartenza definitiva dei lavori. Intrincea le associazioni ambientaliste che chiedono ai comuni, in questo caso Chieti e Cepagatti, di revocare i permessi edilizi, richiesta che è arrivata anche da Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle. Contraria anche Forza Italia, con Moro Febbo che sottolinea come le condizioni economico-sociali dello scalo, siano cambiate e non consentono più la costruzione di un grande centro commerciale come quello in progetto. Nella lista dei contrari è anche il governatore D'Alfonso che ha chiesto un'attenta valutazione delle carte ai tecnici. Oggi sulla questione interviene anche il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, che al microfono di Gino Di Tizio invita tutti a fare un passo indietro e a non strumentalizzare la vicenda a fini elettorali, lasciando parlare solo i tecnici a cui spetterà dire se l'opera è pericolosa in quella zona a pochi passi dal fiume o se invece nulla osta alla sua costruzione. Visto che esiste un istituto giuridico che è la conferenza dei servizi, vorrei che ci fosse in quella sede un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, ci fosse una presa di consapevolezza su quello che abbiamo a disposizione da parte di tutti e poi decidano i tecnici, lasciando fuori la politica da queste vicende. Così come chiedo che la politica non si schiede a favore o contro soltanto per interessi elettorali. Il Tar si pronuncerà il 23 o il 24 di marzo, credo. In quella data noi dovremo e sapremo se la vicenda legata al pronunciamento del via è ancora una vicenda esistente oppure se è una vicenda non più produttiva di efficacia. Se così è, noi su quello dovremo poi commisurare tutte le conseguenti azioni. Quindi non si tratta di fare interpretazioni o di fare nuove illazioni. Si tratta di aspettare che i giudici amministrativi si pronunciano sulla efficacia o meno di quel giudizio del via.